Ciao, sono Mac. E io sono un PC. Come mai? Vestito da grande? Oh, questo. Sono appena tornato da una riunione. Eri ad una riunione? Perché? Anch'io faccio cose di lavoro. Uso i programmi di Microsoft Office da anni. Microsoft Office? Cose di lavoro? Oh, amico. Che c'è? Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Che c'è? Ho bisogno di sedermi. Oh, no. Ma c'è un sacco di lavoro per entrambi là fuori. Non capisco perché reagisci... Perché andare avanti? Lasciami qui sdraiato a svalutarmi.